La nostra priorità era di poter far tornare a scuola tutti i ragazzi e non a rotazione. Per questo abbiamo fatto un grande sacrificio come scuola, cioè avere questa sede così lontana, che però è venuta bellissima, l'avrete visitata, molto bella. Sono contenta che anche ai ragazzi è piaciuta. I ragazzi sapete che hanno collaborato anche a modo loro, scegliendo alcuni nomi delle strade, discutendo. Per noi è molto importante questo fatto di averli tutti assieme. Quindi siamo pronti a affrontare qualche piccolo disagio logistico perché dovremmo trovare delle nuove modalità, insomma nuove organizzazioni. Ho visto il rappresentante degli istituti che era molto soddisfatto, addirittura ha detto che quasi quasi preferiva questa sede qui. Ma penso scherzasse perché ovviamente qua i nostri ragazzi sono molto affezionati alle sedi storiche. E per questo è importante che questa sede qui sia stata fatta con grande attenzione, sia non solo alla sicurezza ma anche alla bellezza. Perché appunto questo ci aiuta. Dobbiamo stare in un padiglione della fiera, ma è un padiglione della fiera bello. Ve lo dico una cosa, una frase di Platone che dice che vuol dire le cose più belle sono difficili da ottenere e quindi noi non ci spaventiamo davanti al difficile.